Il 2020 è stato l'anno della svolta digitale per il Consiglio regionale del Piemonte. Fin dalle prime settimane di confinamento Palazzo Lascaris è stato la prima pubblica amministrazione in Italia a riorganizzare tutte le sue attività da remoto senza mai fermare produttività e calendari, lavori dell'Aula compresi. Già il 24 marzo infatti il Consiglio si è riunito e ha svolto i suoi lavori in virtuale con i consiglieri collegati in videoconferenza ed è stata la prima esperienza del genere a livello nazionale. Un anno fa mi avessero chiesto se si poteva svolgere tecnicamente un Consiglio regionale da remoto, avrei detto sicuramente di no. Oggi posso dirlo tranquillamente, è possibile, questo permetterà di velocizzare i processi legislativi perché stiamo riformando i sistemi tecnologici ma anche i sistemi legislativi e regolamentari per fare in modo che tutto avvenga in modo da remoto e anche più veloce, in modo tale da dare maggiori risposte più corrette ma anche più veloci ai cittadini piemontesi. Un'attività che non si è mai fermata anche grazie al senso istituzionale di tutta l'Aula, capace di trovare sintesi politiche e garantire il voto di molti provvedimenti fondamentali e spesso indifferibili. E a testimoniarlo sono i numeri di questo 2020. Sono state approvate 30 leggi, 16 in Aula e 14 in Commissione, 6.393 gli emendamenti, 45 cartaci e ben 6.348 online. E poi 24 progetti di legge dei consiglieri che si aggiungono ai 24 disegni di legge della Giunta, 161 tra interpellanza e interrogazioni, 205 interrogazioni e risposte immediata e 280 atti di indirizzo. In totale il Consiglio regionale si è riunito 57 volte, ben 32 in videoconferenza, per 265 ore di attività. Tutti i consiglieri e i dipendenti, compresi i collaboratori dei gruppi, sono stati messi in condizione di svolgere attività da remoto. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha un ruolo ben preciso, che è quello di portare avanti gli ideali della nostra resistenza, in difesa soprattutto della Costituzione. Ci sono eventi a cui abbiamo partecipato, a cui normalmente si partecipa, la benedicta uno per tutti, il Colle dell'IS, non possiamo dimenticare questi momenti che hanno fatto la nostra storia. Ci si è dovuti adattare, ma lo si è fatto bene, l'attività del Consiglio non si è fermata, tant'è vero che è stata possibile la presentazione di più di 5.700 emendamenti al provvedimento Omnibus. Quindi i consiglieri hanno potuto svolgere le loro attività in modo pieno ed assolvere in modo pieno ed assoluto il mandato conferito dai cittadini piemontesi. Per quanto riguarda la consulta europea, ho puntato grande attenzione sulla formazione, in particolar modo su quella degli enti locali, perché abbiamo alle porte il nuovo settennato, la programmazione europea 2021-2027 e quindi credo che migliorare le competenze e le possibilità di accesso ai fondi europei sia un vantaggio per tutto il territorio piemontese. Abbiamo usato le consulte per dare delle risposte, abbiamo dato delle risposte, abbiamo iniziato con dei corsi che faremo nelle aziende tramite la Feder Consumatori per poter portare le persone a capire e usare bene l'uso del danaro e non correre nel sovraindebitamento.